Chi lascia un messaggio, chi un disegno, chi una poesia. Arezzo si mobilita così per la pace in Ucraina a distanza di un anno dall'invasione russa con una iniziativa voluta dalla rete aretina per la pace ed il disarmo. In Ucraina in questo momento muoiono, muoiono ucraini, muoiono russi e per questo noi vogliamo testimoniare che se vuoi la pace devi preparare la pace. Si chiede il cessate il fuoco con atti concreti di diplomazia che fino ad oggi non è riuscita a fermare le bombe. In piazza Saiacopo ha preso così forma un murale per la pace con cui Acli, Arci, CGL e il movimento dei focolari italiani hanno lanciato un messaggio chiaro, un convinto no alla guerra per tornare verso un'Europa più sicura e pacifica per tutti. Noi siamo contro l'invio delle armi in Ucraina ma soprattutto noi ci rifacciamo anche come Acli al pensiero di Papa Francesco che è l'unico leader mondiale che sta lavorando davvero per la pace.